Musica Io vi presento subito e lo ringrazio in maniera specifica perché arriva dal territorio di Lecce quindi ha fatto un po' di strada per raggiungere gli studi di Antenna Sud Alfredo Foresta, architetto urbanista, grazie per aver accettato il nostro invito Grazie a voi e un saluto degli spettatori A Lecce c'è un appuntamento importante a partire dalle 18.30 c'è un'inaugurazione nel Museo Provinciale Castromediano vogliamo dire di cosa si tratta, poi abbiamo un contributo da vedere insieme che riguarda Martina Franca e poi inizierà, entrerà nel vivo la nostra chiacchierata Sì, questa sera al Museo Cisbondo Castromediano una mostra fotografica di uno straordinario interprete della fotografia, un salentino, Bruno Barillari che ha donato 12 scatti al Monumento della Cavalleria Monumento della Cavalleria perché si festeggia nei 200 anni dalla nascita della Cavalleria Sì, si festeggia nei 200 anni della nascita della Cavalleria Lecce, unica sede in Italia della Scuola di Cavalleria ho avuto l'onore di realizzare il primo monumento urbano della Cavalleria italiana Quali sono le caratteristiche di questo monumento? Immagino che fra pochissimo avremo anche dei contributi fotografici e filmati da dove è nato lo spunto per realizzare il manufatto? Diciamo lo spunto nasce dalla necessità di raccontare l'evolversi dalla Cavalleria dall'uomo a cavallo all'uomo con i carri che diventano carri armati ma in realtà l'arte, le arti mi sono andato incontro perché insegno educazione artistica la chiamo come si chiamava? Chiamava una volta Il vecchio perché educhiamo i ragazzi a uno sguardo all'osservazione, alla sensibilità, all'eleganza E in questo momento ce ne sarebbe veramente bisogno Esatto, in un momento storico dove altri ragazzi per proteste legittime ma sbagliano, a mio modo di vedere, i mezzi sporcono e buttano a terra i monumenti questo monumento a Lecce rappresenta un'eccezionalità e un'eccezione in quanto è stato realizzato in una rotatoria urbana, in un luogo o non luogo e quindi le arti sono riuscite a contaminare uno spazio urbano, a realizzare un monumento sono stato solamente uno strumento tra i ragazzi e le necessità della committenza Intanto io le volevo chiedere, chiedo alla regia di mandare in onda il video che abbiamo a corredo di questa chiacchierata Si può, partendo da un monumento, riqualificare dal punto di vista dell'urbanistica anche un luogo, un territorio, una porzione di città? I monumenti hanno la loro ragione alla notte dei tempi Monumento significa ricordare E una delle facoltà principali dell'essere umano è la memoria Pradossalmente più abbiamo potentissimi telefonini, iPad, iPhone, computer che hanno grande capacità di memoria, più l'uomo la perde È un processo inverso E si confonde ciò che è la comunicazione attraverso la sensibilità della trasmissione dei dati Io ho iniziato a non fotografare più niente quando vado a visitare i luoghi proprio per cristallizzare, provarci almeno le immagini, i luoghi Infatti si parla di deserto digitale perché questi sono accumulatori di informazioni L'uomo invece si nutre, si feconda con le emozioni E le emozioni generano la creatività E allora i monumenti nella parte storica della città diventano gli scenari di un teatro che è la quotidianità Ci identifichiamo, non sia mai un qualcosa che appartiene all'immaginario collettivo venga toccato Sia esso sacro o profano Negli ultimi anni c'è stata una tendenza a considerare l'arte E' bello ciò che è bello e bello ciò che piace E c'è stata un'involuzione tra il processo creativo Che è un processo fatto di sofferenza e di percorsi ben scanditi di formazione Con l'originalità fino a se stessa E questo probabilmente ha impoverito di significati anche gli spazi urbani I monumenti non devono essere belli, i monumenti non devono essere brutti I monumenti sono il recupero della memoria in una proiezione futura Il monumento del bicentrano della cavalleria ha nella sua essenza Gli elementi fondanti del passaggio dall'uomo a cavallo all'uomo con il carro Ma in realtà pesca nelle avanguardie artistiche del Novecento Per quale motivo è stato scelto il bianco? Il bianco, allora i luoghi sono l'elemento fondante di una progettazione Non si può prescindere dal luogo Il su misura fa la differenza tra il potro portè Quindi il luogo indica i materiei da costruzione Il luogo indica il colore Presente, 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 perché? Il presente siamo noi, il presente è il buongiorno Il presente è un figlio, il presente è una persona che non c'è più Ma è sempre presente, il presente è il futuro Quindi il presente è un omaggio cortese a una bella donna Il presente è il regalo che ci fa una persona a noi grata E allora l'idea di questo monumento è stato regalato alla città di Lecce Dall'Associazione Arma di Cavalleria E quindi nel bianco, il bianco del Mediterraneo, il bianco del Pensiero Meridiano Il bianco di purezza Questo è un monumento di pace Un monumento di pace Eppure parliamo di forze armate che diventano forze di pace a questo punto Assolutamente sì, ma se lei ben ha presente Le forze armate di pace hanno il colore bianco Il bianco è universale Soprattutto nella latitudine del Mediterraneo dove noi siamo Il bianco nel Mediterraneo è il non colore che dà colore alle ombre A mezzogiorno nel Mediterraneo le ombre non fanno mai paura Perché non ci sono e c'è il bianco Quindi era un atto dovuto sia in termini di simbologia rispetto al concetto di pace Sia rispetto a una latitudine che è il Mediterraneo Approfitto della sua presenza per chiederle se abbiamo bisogno di essere educati all'arte Perché poi l'arte veicola dei messaggi che sono importanti Sono quelli che lei sta citando in questo momento e in questa occasione Diciamo educare e come edificare Sono termini che hanno un po' perso di significato Edificare, educare Sono parte integrante di quei percorsi necessari Per misurarsi e misurare se stessi con il sapere Dove ci può essere la sconfitta, dove ci può essere arrivare secondi E quasi in antidesi rispetto a un tempo presente fatto di decimi di secondo La formazione, i percorsi hanno tempi lunghi, di stagionatore lunghi Le cose importanti hanno bisogno di tempo Quindi educare significa avere grazia, significa sapersi comportare Avere gli elementi per poter decifrare il contesto Quindi l'arte non intesa come il bello e il brutto Ma il sapersi comportare, l'eleganza Sapersi comportare, imparare ad arrivare anche secondi È un messaggio importante soprattutto per i giovani Soprattutto in questo periodo In cui si sono persi i punti di riferimento, architetto Si sono persi i punti di riferimento Si è confuso il giudizio con il voto Il voto è il lunedì sulla Gazzetta dello Sport Giusto per essere un po' provocatorio I ragazzi non hanno bisogno E tra l'altro anche quello potrebbe in certo senso essere eliminato Perché la prestazione di chi è in campo non può essere riassunta Con un numero, varrebbe per tutto Il numero va bene se è giustificato, motivato Altrimenti rimane un numero I numeri non hanno anima Io credo che bisogna tornare a bocciare La bocciatura è un elemento fondamentale del percorso di vita Che significa trovare un motivo Perché il concetto che tutti possiamo fare tutto è sbagliatissimo Uno fa quello che sa Uno fa quello che sa, non tutti possiamo fare tutto Uno non vale uno Ecco, l'ha detto lei Siamo completamente all'opposto del pensiero imperante Siamo all'opposto del pensiero imperante Beh, ma facciamo anche questo Per quale motivo ha scelto questa forma per il monumento e non altre? Perché io insegno, quindi nel mio triennio si parte dalle prime insegnamenti dell'uomo L'impronta L'impronta che è il primo momento di antropizzazione Poi nel secondo anno si passa alla centralità dell'uomo vitruviano Per poi passare al cosmo barocco Quindi l'ovale Quindi l'impronta, l'ovale E poi arrivano gli avanguardi Il movimento futurista L'ingranaggio La velocità Ma poi c'è la metafisica C'è il sogno onirico Quindi si può vedere l'impronta appunto del cavallo che poi diventa carro armato Ma in realtà per me è una meridiana, una macchina del tempo Dove appunto il sogno diventa il recupero della memoria E ci proietta in un futuro radioso Sarebbe bello fare un esercizio, un gioco Mettere persone diverse davanti a un monumento E farselo descrivere Ogni occhio lo vedrebbe in una maniera diversa Lo leggerebbe in una maniera diversa Sarebbe curioso anche di fare Assolutamente sì Assolutamente sì Il problema è che noi non abbiamo un paese Italia Condizionata da tanta storia Non abbiamo la cultura contemporanea Quindi è più facile immaginare Perché abbiamo tanta storia A un'architettura, un'arte classica Sul contemporaneo abbiamo delle difficoltà Al punto tale che paradossalmente Il primo atto dell'uomo è quello di disegnare I bambini disegnano in maniera straordinaria I dettagli incredibili Ma anche nelle caverne, no? L'abbiamo fatto sin da subito Perché è una forma di rilievo e di graficizzazione Man mano che si cresce ci inimbiamo Diciamo che non sappiamo disegnare Disegnare è come parlare Tutti sappiamo parlare, sappiamo disegnare Il problema non è come disegnare Perché il modello è Michelangelo Poi io faccio vedere Mirò Che disegna come un bambino A quel punto qual è il disegno più bello? Quello di Michelangelo o quello di Mirò? E quindi cade questa impalcatura Il problema non è saper disegnare È saper comunicare Saper rilevare e trasformare il segno in disegno Che è una cosa diversa dal saper disegnare bene Abbiamo spaziato un po' Perché ho approfittato della sua presenza L'ultima cosa volevo chiedere Prima di ricordare ai nostri telespettatori L'appuntamento importantissimo di questa sera Qual è lo stato di salute dell'arte oggi in Italia? Grande confusione C'è grande confusione E soprattutto non abbiamo ancora Ben consapevolezza Dei nuovi mezzi di comunicazione Che sono appunto il virtuale L'arte è nella storia dell'uomo L'attività principale per comunicare Per vivere meglio e per antropizzare Se non recuperiamo questa necessità primordiale Rispetto a formalismi modaioli C'è un processo di evoluzione Io posso fare due ringraziamenti dovuti Certo che può fare dei ringraziamenti Ma ci mancherebbe Per me è stato un onore ospitarla oggi architetto L'altro ai ragazzi del Gallateo La scuola dove io insegno è il Gallateo di Lecce Perché la gestazione di questo monumento Nasce nel presente di ogni mattina a scuola Dopo l'appello con loro E questa sera 40 elementi Dell'orchestra, della banda musicale Perché il Gallateo è una scuola L'indirizzo musicale Suoneranno, accompagneranno Quindi c'è l'arte della fotografia L'arte della musica Il Museo Cisimo Castromediano Ha reperti di arte storica C'è la contemporaneità del monumento E quindi c'è un travaso Di sensazioni e di emozioni Sarà una bella serata Ringraziare il dottor De Luca Che è il direttore del Polo Museo della Regione Puglia Perché ha portato in scena Nel museo Nel luogo per definizione Dove si parla di cultura Un ex vuoto urbano Una rotatoria Perfetto Allora grazie all'architetto Alfredo Foresta Architetto urbanista Che ha realizzato quest'opera Abbiamo provato a spiegarla Con la speranza insomma Di esserci riusciti Proprio nel migliore dei modi Perché come vedete Da un monumento Poi vengono fuori Tante altre riflessioni Anche dal punto di vista Dell'urbanistica Che meritano di essere fatte Appuntamento Questa sera Alle 18.30 Nel Museo Provinciale Castromediano Per questa importante inaugurazione Grazie ancora Durerà un mese Vi aspettiamo Ne vale la pena Le fotografie sono bellissime Grazie ancora E buon Natale A degli spettatori Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti